musica No Domani tutti connessi Che c'è una sorpresa Una bella sorpresa Vecchi nel L.A. ci sono fottutissimi i 33 gradi E' la cosa più utile che ho comprato a Las Vegas questa Oh, un oisi nel deserto Back to my babies Sembra che siamo a una cresima di qualcuno E' la rinuncita di un ragazzo che viene dal nulla che non è stato aiutato da nessuno E' la rinuncita di delle persone che come me non hanno mai avuto una speranza E sono state costrette a crearsene da sole Cade 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 sembra migliore o mi chiami Sidebaby o mi chiami Arturo se sei un vero fan non lo fai eschiare Arturo bitch anzi regalo direttamente Arturo con il culo tutto il culo stronzato di nomi da rapper se mi incontri e mi saluti e mi chiami una foto chiamami Arturo Arturo, il nome che mi ha dato mia madre Arturo Bruni e non vi dimenticate mai in quelle vostre vite da stupidi che le vostre ragazze mi chiamano Papi oh daddy bitch ma grazie che tu sia tu fratelli miei vi avevo detto di affrettarvi che i biglietti andavano sold out infatti invito tutti i ragazzi di Roma dell'Oreon di non farseli scappare perché manca poco e soprattutto e soprattutto sarà uno show unico per quello non lo posso far tante volte andiamo su quella Nike Europa away quelle non le posso aprire ecco limiti a musica dal vivo a girare tutta l'Italia torneremo comunque e quindi e quindi non lo posso far tante e quindi non lo posso far tante e quindi non lo posso far tante Scusa Giannu, me lo sto a rispondere, non è questo per favore, ma li storiamo o non li storiamo? Madonna, la piccola Bibby, e questo? Questo a buffo? Ne parliamo? Tutta la verità dietro le foto con i piatti di pasta di Ludovica Pizzaglia, in realtà è finta, e poi dopo mangia l'insalata, ma mangia, che dolce, ciao ragazzi ho raggiunto le mie amiche qui a casa Ligè, quest'oggi alle 15 ci sarà una super diretta sui social di Ligè che vi taggo qua sotto, non perdetevelo alle 15, Vi aspettiamo, ciao! Mentre sto diventando cieco per colpa del sole, volevo dirvi che fra 5 minuti siamo in diretta sull'account di Ligè che vi lascio qui, se volete farci qualsiasi domanda, insomma, se non avete di meglio da fare a chi fa? a chi fa? A chi fa? La Kinga è stata una piccola. Inoltre pregno alla media di un bel nostro amico side No, a chi fa? A chi fa? Occh? Ti stai? No, a chi fa? No, ma não, a chi fa? No, 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 a chi fa? E, ho? Non, a chi fa? No, 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 a chi fa? ora raga vi racconto un aneddoto era il 2014 avevo preso la mia polo avevo speso tutti i soldi che avevo per fare un contest qua a Rimini oggi ci torniamo da vincitori insegui il sogno ci incontreremo Vance baby che si può essere da qui that way che si può essere da qui sono benvenuto nel mio mondo non lo amio, non lo odio sei dentro, sei fuori, deve adesso vanno, sshh faranno sempre cento voglio che sul sedile possa il giro ci sa seduto solo chi è positivo non c'è spazio per un invidioso che porta anche qui arriviamo a volo ci vediamo di questo farò un altro giro dopo un altro giro come se salvare racconti che fa tutto per questo dopo un amico beh non c'è 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 Grazie a tutti.